Ci è voluta la pioggia per rendere interessante il Gran Premio di Monaco di quest'anno, tra bandiere rosse partendo su un scepticare grandi errori di strategia, vince Sergio Perez davanti a Carlos Sainz nella rivincita dei secondi piloti delle due scuderie maggiormente titolate per la lotta mondiale di quest'anno. Un Gran Premio di Monaco che ha vissuto in realtà due le aree distinte, la prima di fatto sotto la pioggia, la seconda si è lasciato dopo il grande incidente a Mick Schumacher, sarà un restitutica per una volta molto corposo in barba al Gran Premio di Monaco tradizionale che dottoriamente non è un bel Gran Premio, anche quest'anno in alcuni tratti lo ha dimostrato. Va detto però che quest'anno dobbiamo contestualizzare molto di più perché la Red Bull vince con una strategia efficace, quantomeno con Perez, la Ferrari perde la gara con una nuova strategia molto molto grossolano. Partiamo però appunto dal contesto del come siamo arrivati a questo punto e partiamo dalle qualificazioni del sabato perché questa è l'immagine con cui si chiude la Q3 con Perez che perde la macchina nella curva prima dell'ingresso del tunnel del circuito del Principato e di fatto causa una bandiera gialla 30 secondi dalla fine della Q3. Sainz non si accorge evidentemente che Perez ha fatto incidente, perde la macchina a sua volta e c'entra quello che resta della vettura del pilota messicano. Due vetture di fatto sbarrano la strada e di conseguenza bandiera rossa, qualificazioni terminate e due Ferrari nelle prime due posizioni. Sì perché le qualificazioni recitavano che Leclerc era partito in pole position, quattrocesima carriera appunto per il Monegasco e secondo Carlos Sainz due Red Bull, terza e quarta con appunto Verstappen davanti a Perez. Questo in condizioni normali sarebbe stato un podio evidentemente anche da considerare per la gara perché sappiamo che Monaco è un circuito che andrebbe abolito nel calendario di Formula 1 in quanto è un circuito strettissimo e con queste macchine che sono anche più larghe delle precedenti non si supera a maggior ragione, figuratemi con le macchine di un tempo. Invece abbiamo deciso che Monaco invece partiva con partenza sotto safety car, partenza sotto safety car per un diluvio universale che si è abbattuto di fatto dopo la gara delle Porsche Super Cup e di conseguenza un po' come a Imola le carte potevano essere cambiate. Di conseguenza bandiera rossa prima dell'inizio della gara apparenza rinviata di un'ora e alle quattro alla fine si parte. Una partenza lanciata sotto safety car come evidentemente vediamo in quest'ordine, quindi Leclerc, Sainz, Perez e Verstappen in una gara che evidentemente non ha ancora una volta però dimostrato alcun sorpasso. L'unico che ci ha provato è stato Gasly che è riuscito a fare due sorpasse addirittura in questo circuito strettissimo che ripeto andrebbe ancora una volta abolito dal calendario e poi vedremo anche il perché. In ogni caso era un Gasly pimpante, un Gasly che purtroppo però ha dovuto buttare nel rudo una qualificazione che evidentemente lo vedeva un po' in posizioni migliori rispetto alla sedicesima di partenza. Gasly monta gomme intermedie, va veramente fortissimo e la strategia evidentemente qui entra in gioco perché dei big four che vediamo qui in questa grafica alla fine le due Ferrari saranno quelle deluse mentre le due saranno quelle vincitrici perché Perez sarà bravissimo nella Zaccari insieme al suo Moretto evidentemente la strategia corretta nel mettere al momento giusto le intermedie che performeranno incredibilmente bene. E di conseguenza il messicano complice anche il grave errore di strategia della Ferrari che farà due errori ben distinti evidentemente andrà a portarsi a casa una vittoria assolutamente meritata perché evidentemente è stato bravo a giocarsi il Jolly e in un circuito come Monaco è veramente difficile fare una staggia corretta perché se fai undercut è evidente che finisci nel traffico perché il circuito è troppo corto. Se fai overcut la stessa cosa quindi bravo al pilota messicano che comunque andrà a ripartire in testa nella gara 2 perché dico gara 2 perché è evidente che la gara viene condizionata anche dalla bandiera rossa la seconda di giornata per questo incidente a Mick Schumacher che perde la macchina da solo di fatto nelle chicane del tabaccaio e appunto perde la macchina e va a sbattere contro le berglie di protezione. La macchina come vedete è in condizioni disastrosi il pilota per fortuna è stato cosciente e sta bene e quindi è soltanto un grosso spavento per il figlio del sette volte campione del mondo Michael Schumacher. Bandiera rossa si riprende la gara una gara andrà evidentemente a tempo non si arriverà a conclusione dei giri effettivi ma comunque c'è gloria sempre per Sergio Perez che appunto partendo primo e nonostante un bloccaggio clamoroso nella prima curva letteralmente della ripartenza a ragione di tutti gli altri piloti andando a vincere la terza gara della carriera e di conseguenza suona per lui l'inno nazionale messicano. Terza vittoria in carriera dopo quella dell'anno scorso e quella anche che capitò in Bahrain due anni fa nel 2020 nella gara di Sakir per il secondo pilota Red Bull che di fatto torna in auge e si issa ancora di più in terza posizione assoluta del campionato del mondo davanti appunto a Carlos Sainz che comunque recupera qualche punto e fa quinto e appunto davanti ulteriormente a Max Verstapp per il primo Red Bull che comunque deve ringraziare il muretto Ferrari che di fatto ha boicottato la gara di entrambi i piloti e adesso ne parliamo perché è vero che Carlos Sainz finisce secondo ma finisce secondo per un errore clamoroso di strategia e qui è il primo errore del muretto Ferrari perché Carlos Sainz è stato fuori un'eternità con le gomme da bagnato estremo quando molti piloti avevano già cambiato con le gomme intermedie era ovvio che la tattica era quella di passare da gomme da bagnato a gomme d'asciutto ma evidentemente non ha pagato l'errore più grave però è stato fatto secondo me con Charles Leclerc pilota di casa che partiva in pole position Leclerc peraltro a Monaco non ha mai combinato niente in carriera aveva una grandiosa chance di terminare davanti a tutti il campionato di casa e invece si ritroverà quarto in modo abbastanza incredibile mi verrebbe da dire perché non solo la Ferrari lo ferma una volta per mettergli le gomme intermedie ma lo ferma in un momento dove le gomme intermedie di fatto non servivano ad un accidente tanto è vero che Leclerc verrà fermato una seconda volta insieme a Sainz per rimetterle gomme d'asciutto qualcosa di clamoroso sembra tornato il moretto Ferrari di qualche anno fa che veramente quando c'era Vettel in pista non ne azzecavano una neanche per sbaglio qui è la stessa cosa è incredibile come una scuderia che sta giocando il mondiale con una partenza incredibile perché le Ferrari hanno prima e seconda di fatto il pilota con cui si gioca il mondiale lo fa finire fuori dal podio e qui addirittura Sainz che in parte si riscatta dopo una stagione abbastanza normale in questo momento finisce secondo e avrebbe potuto anche vincere se non fosse per il fatto che Perez di fatto ha fatto da tappo a tutti gli altri piloti perché qui arriviamo a uno dei motivi principali per cui Monte Carlo è comunque abolito da questo calendario io capisco il fascino e anche i soldi mi verrebbe da dire di Monte Carlo e il fatto che ci sia il prestigio di vincere in questo circuito molto particolare ma vedere l'unico sorpasso decente in gara di Gasly perché è una gomma incredibilmente più performante rispetto agli altri ed erano posizioni di rincalzo francamente mi fa un po' girare le scatole perché ancora una volta poi abbiamo visto sull'asciutto come un pilota che andava molto lento degli altri vedi per esempio lo stesso Perez che girava il 1.18 il 1.19 addirittura con Lando Noves che nel frattempo faceva il giro più veloce della gara è clamoroso come evidentemente questa sia considerata ancora una gara di Formula 1 pista troppo stretta evidentemente per queste auto sorpassi non ne abbiamo visti è stata interessante la strategia dei pitstopper che appunto c'era l'acqua e di conseguenza il fatto che la pista si asciugava era evidentemente il leitmotiv della gara di Monaco la strategia giusta piuttosto che la strategia meno giusta ma è l'unico motivo per cui evidentemente ho visto il campain altrimenti abbiamo visto 78 giri di nulla assoluto un po' come abbiamo visto anche nelle altre categorie perché anche nelle altre categorie di cui parleremo più avanti è evidente che i sorpassi siano veramente visti di rado e Perez e anche Fernando Alonso sono un po' l'emblema di come questo circuito sia atipico e per me orrendo io non sono un fan del GP di Monte Carlo e è veramente clamoroso come a maggior ragione si debba assistere a spettacoli come questi perché capisco il fascino dell'acqua ma nella parte asciutta sorpassi non ne abbiamo visti neanche per sbaglio e Fernando Alonso che comunque ha fatto una grande gara finendo settimo ha rallentato praticamente metà schieramento girando 4 secondi più lento di quelli che erano dietro di lui ma considerato che a Monaco non si può sorpassare neanche di pinto a meno che in un corre di rischio incredibile finisce a muro è evidente come le posizioni per la ripartita siano di fatto state mantenute e dunque andiamo con questo a concludere lo schieramento dei primi dieci con quinto George Russell che una volta autore di una grandiosa gara evidentemente a sto giro non aveva il passo per arrivare a prendere le due Red Bull e le due Ferrari sesta posizione per Lando Norris che comunque era in auge per il giro veloce alla fine il giro veloce gli viene tolto ma comunque cambia poco settima posizione per quanto riguarda la gara di Monaco appunto abbiamo detto Fernando Alonso ottavo Luis Hamilton che appunto è partito a metà schieramento ed è partito esattamente così come è arrivato tipico di Monaco nona posizione per Valtteri Bottas che comunque continua a fare punti con l'Alfa Romeo chiude la zona punti Sebastian Vettel che di fatto compie la seconda gara punti della stagione con un Aston Martin che ha fatto vedere qualcosa in più c'erano state anche ulteriori polemiche del fatto che l'Aston Martin fosse una sorta di mini Red Bull ma evidentemente i risultati non sono arrivati per la casa tedesca è ancora un buongiorno ripeto per ribadire che questo gioco di studiino dovrebbe essere tolto dal mondiale di Formula 1 perché è vero che abbiamo visto una parte di gara incredibilmente spettacolare con l'acqua perché c'era da capire le strategie e come e quando si sarebbero fermati i piloti ma è altrettanto vero che abbiamo visto una seconda parte di gara a tempo dove veramente non è successo nulla il piattume è più totale e non è per dar conto ai circuiti cittadini in sé che questo tipo di circuito molto stretto e molto tecnico perché di fatto non c'è la possibilità neanche a pagarlo è evidentemente atipico anche rispetto a tutti gli altri cittadini per esempio la prossima settimana o meglio tra due settimane si andrà a Bako a Azerbaijan ed è evidentemente un circuito che io terrei perché Bako ha delle chance di sorpasso Monaco assolutamente no e appunto abbiamo visto episodi molto incredibili come appunto un pilota che va 4 secondi più lento dell'inseguitore che di fatto ha potuto difendersi a oltranza fino a che non ha tagliato traguardo comunque non va al merito a Sergio Perez al mio modo di vedere perché evidentemente con la strategia corretta ha fatto una gara molto interessante e si merita questa vittoria peraltro secondo podio di fila in una settimana per il messicano per il quale suona ancora una volta il suo inno per la terza volta in carriera peraltro Perez per me è il driver del giorno perché appunto ha azzeccato la strategia e aveva delle gomme molto performanti ha avuto la meglio diciamo degli avversari in un circuito dove tendenzialmente appunto abbiamo detto le gare sono noiose e orrende la delusione del giorno per quanto riguarda invece i piloti è ancora una volta Daniel Ricciardo perché sapete che sono tifoso della McLaren ma non diciamo mi risparmio da critiche quando devo darle e Ricciardo è evidentemente l'ombra di se stesso da quando è andato a Imola non ha più azzeccato una gara che sia degna di questo nome con l'altro pilota Lando Norris che in questo momento fa il giro veloce della gara in 2014 addirittura a Monaco segno che comunque la vettura è competitiva Ricciardo naviga un po' a vista metà schieramento e veramente fa molta molta fatica è veramente l'ombra del pilota che fu il pilota italo-australiano ed è veramente un peccato perché Ricciardo di potenziale anche a 30 anni suonati comunque ce l'avrebbe e una sola gara punti sulle sette disputate è veramente poco ed è un rendimento che grida assolutamente vendetta Delusione del giorno poi è ovvio dirlo che vada dato alla scuderia Ferrari in quanto con due piloti primo e secondo in qualificazione a Monaco non si può non finire primo e secondo in un circuito dove non si supera finire secondo e quarto è assolutamente una delusione e vorrei capire il motivo per cui hanno fermato soprattutto Leclerc due volte quando non c'era assolutamente bisogno bastava fare uno stop in meno passare da gomme da bagnato a gomme da asciutto e probabilmente avranno visto un'altra gara magari Leclerc avrebbe non finito quarto ma comunque a podio forse l'avrebbe anche vinta chi lo sa però è evidente come in questo caso il moretto Ferrari si merita senza sé e senza ma la delusione del giorno collettiva perché ripeto parliamo di una scuderia che si sta giocando il mondiale di quest'anno contro una Red Bull che comunque è molto quadrata tecnicamente e di conseguenza ogni piccolo errore a questi livelli lo paghi carissimo e Monaco è veramente una cartina di tornasole in tal senso questo è comunque il racing podcast per quanto riguarda la Formula 1 concludiamo con la Formula 2 che ha corso anche qui a Monaco e ancora una volta celebriamo Felipe Drugovic come leader di mondiale Formula 2 Drugovic che peraltro vince ancora una volta la Fitcher Race e vince la terza gara nelle ultime quattro suona ancora una volta per lui l'inno brasiliano per la quarta volta in stagione seconda posizione per la gara lunga di Formula 2 è Theo Purcher che comunque si conferma un pilota interessante su questo circuito visto che l'anno scorso c'era pure vinto e occhio a Pulcher perché ha uno finato Sauber ed è uno dei papabili per gli anni prossimi secondo me per arrivare in Formula 1 e terzo della gara lunga Yuri Vips che ha la meglio di suo diretto avversario Jack Doan di fatto ha ibox l'unico modo in cui si può sorpassare una vettura in pista in questo circuito delle balle di Monte Carlo vince Dennis Hauger invece la gara corta un Hauger che torna veramente sui livelli che gli competono dopo un inizio di stagione veramente disastroso Hauger ricordiamo è il campione regnante a Monaco complice anche l'inversione della griglia e una partenza stallata di Jake Hughes di fatto conquista la prima vittoria in Formula 2 per il Norvegia e il suono il suono nazionale sì noi amiamo questo paese prima vittoria di carriera per Hauger in Formula 2 seconda posizione per Ihan Daruvala compagno di squadra di Hauger dunque doppietta per il team prema team italiano ricordiamole dunque Daruvala è terzo assunto nel mondiale anche se evidentemente la lotta è a due con Drugovic e Purger con il brasiliano evidentemente in uno stato di grazia clamoroso con tanti punti di vantaggio ovviamente sul francese terza posizione invece per Marcus Armstrong il piloto del team Haite che dunque fa due podi in due gare con entrambi i piloti dunque anche per Armstrong c'è una sorta di riscatto lui che è uscito dal programma giovani della Ferrari una Formula 2 che non ha vissuto in realtà di gare leggendarie ma perché appunto ripeto per la 45esima volta siamo a Monaco e a Monaco non si supera le gare sono tendenzialmente a trenino e molto anonime ringraziamo per fortuna Gasly che in Formula 1 ci ha deniato i due sorpassi clamorosi peraltro uno prima del tornantino che gira verso il tunnel e poi un sorpasso clamoroso anche all'uscita verso le piscine Gasly ha fatto qualcosa di clamoroso pur finendo fuori dalla zona punti però evidentemente è clamoroso secondo me quello che ha fatto ancora una volta il Borreto Ferrari però questa volta in negativo il prossimo appuntamento che mondiale di Formula 1 sarà a Vakina a Zerbaigian tra due settimane invece con i race podcast ci vediamo martedì per parlare del Mugello della MotoGP ci sarà poi la replica speriamo mercoledì della diretta con il Fabione per parlare del Gran Premio di Spagna e del Gran Premio del Monaco quindi faremo doppietta in ogni caso appuntamento qui sul canale martedì alle 19 per il Mugello su Twitch sul canale del Fabione alle 22 martedì sempre e poi eventualmente in replica per chi se la fosse persa il mercoledì sempre su questo canale il saluto da parte di Matthew Thorgard ci vediamo al prossimo video grazie a tutti